C'è attesa e molta curiosità per come il nuovo governo risanerà i conti pubblici. Le professe sono state quelle di non aumentare le tasse, di dare reddito di cittadinanza, di bloccare l'arrivo di nuovi profughi e di inserire la flac tax. Manterranno le promesse? Aspettiamo prima di sbilanciarci, di criticare. I modi per recuperare denaro ci sono e molti paesi li hanno già escogitati e messi in pratica. Di singolare l'iniziativa del governo francese. Emmanuel Macron ha deciso di far cassa salvando anche le realtà artistiche e architettoniche del suo paese. Si è inventato Mission Patrimoine, una missione patrimonio che con questo sistema salverà i monumenti a rischio. Pensiamo alla nostra Italia, a Pompei e ad altri siti archeologici. Il presidente francese vuole salvare i castelli e nello stesso tempo risanare i conti pubblici. Così ha messo in vendita Grattevinci e le cartelle della fortuna, il cui ricavato verrà devoluto all'arte, alla cultura e alle casse dello Stato. È stato ideato da un giornalista, star della divulgazione, Stéphane Berard, una sorta di Piero Angela francese. Il lotto del patrimonio, a cui si accompagnerà lo specifico Grattevinci, ambisce a finanziare le spese di ristrutturazione non solo dei monumenti, ma di molte altre realtà nazionali. È prevista anche una lotteria, una lotteria con biglietti a 15 euro, che verrà organizzata in occasione della giornata del patrimonio a settembre. Il governo di Parigi stima introiti tra i 15 e i 20 milioni di euro, tutto a beneficio di un fondo specifico sul patrimonio in pericolo. Ma speriamo che in Italia non si continui solo a grattare, ma finalmente qualcuno vinca e non vincano sempre i soliti noti.